Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca e lo facciamo con un primo servizio nel quale torniamo a parlare dell'inchiesta per gli appalti nella ricostruzione post terremoto all'Aquila. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori anche i lavori effettuati in alcune chiese dell'Aquila e del comprensorio. La curia fa sapere che tutto è regolare per quanto li riguarda. Intanto oggi davanti ai magistrati sono comparsi due degli arrestati, Piccinini e Di Vincenzo. Il servizio di Daniela Rosone. Sono iniziati questa mattina nel Palazzo di Giustizia dell'Aquila gli interrogatori delle 35 persone coinvolte nell'inchiesta. L'importante è partecipare. A sfilare per primo davanti al GIP Giuseppe Romano Gargarella è stato Lionello Piccinini, geometra del segretariato MIBACT, per cui sono stati disposti i domiciliari. Piccinini, accompagnato dal suo legale l'Avvocato Marco De Paulis, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma verrà chiesto, ha spiegato l'Avvocato, un incontro successivo con il PM e l'accesso soprattutto a tutta la documentazione. Ovviamente l'Avvocato De Paulis rigetta le accuse mosse al suo assistito. Stessa linea per l'Avvocato Bafile, che difende Berardino Di Vincenzo, consulente della Regione Abruzzo e in passato funzionario del Ministero, ora in pensione. L'Avvocato Bafile ha parlato di anni e anni di onesta professione del Di Vincenzo e relativamente all'inchiesta, che coinvolge anche i suoi due figli architetti, ha spiegato che uno dei due ha già risposto ai giudici per ben sei ore relativamente all'inchiesta madre, quella cioè su Palazzo Centi. L'inchiesta in questione, infatti, è solo una costola che deriva dalla principale. Nei confronti dei 35 soggetti coinvolti, pesanti le accuse, concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Secondo gli inquirenti, le aziende si garantivano i lavori praticando ribassi cospicui e ottenendo poi compensazione attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il compenso per i funzionali si sarebbe concretizzato poi attraverso l'affidamento di incarichi a figli, parenti ed amici. Abbiamo avuto accesso a tutta la documentazione anche perché ancora non finiscono di depositare tutti i documenti sequestrati presso il Minbac. Poi ci sarà un'attenta analisi di tutte le carte e faremo emergere la correttezza di tutte le procedure e di tutto quello che è stato fatto dal mio assistito. In questa fase non abbiamo avuto la possibilità di dare chiarimento e di rispondere. Poi ci siamo riservati la possibilità di chiedere al PM un eventuale interrogatorio e dare le indicazioni sulla base di quello che è l'analisi pure dei documenti. Beh, ovviamente si trovi in una situazione, voglio dire, particolare, tenuto conto che lui viene attinto da misure cautelari e da procedimento penale allorquando sta in pensione dopo aver gestito per tanti anni tutte le attività o comunque quelle che competevano ai suoi specifici incarichi. È chiaro che oltre, diciamo così, la sorpresa del procedimento penale c'è anche il dispiacere di aver operato bene per tanti anni e poi alla fine incorrere in una questione di questo tipo. Era morto per cause naturali nella casa dove viveva con la sorella malata e allettata dopo un'operazione chirurgica e che non si era accorta di nulla. È accaduto alle 10 di questa mattina in un appartamento di Via Raffaello a Pescara nel centro dove questa mattina una badante dopo aver suonato alla porta e non aver ricevuto risposta ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che una volta entrati in casa hanno scoperto l'uomo di 67 anni senza vita come certificato successivamente anche dal medico legale per arresto cardiaco. L'uomo soffriva da tempo di alcune patologie croniche. 84 milioni di euro con progetto realizzato attraverso un project financing il nuovo ospedale di Vasto prende forma nel seguire l'iter verso la cantierizzazione e l'attuale presidente della commissione sanità in regione Abruzzo ed ex assessore al comune di Vasto Mario Olivieri avrà il compito di velocizzare questo iter. Il servizio di Alfredo Primante Cantierizzazione entro due anni e questo l'obiettivo che si è prefissato il presidente della commissione regionale sanità Mario Olivieri incaricato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso di seguire e velocizzare l'iter del nuovo ospedale di Vasto. Il nosocomio sarà costruito su un terreno di circa 13 ettari già acquisito dalla Asl Teatina e fa parte di 5 nuovi ospedali finanziati per un totale di 371 milioni di euro buona parte dei quali pubblici legati all'articolo 20 sull'edilizia sanitaria Giuliano Vauteramo a seconda delle scelte del territorio sul Mona Lanciano Avezzano e Vasto questo l'elenco a cui vanno sommati i project financing di Chieti e L'Aquila il primo in via di definizione e il secondo in fase meno avanzata e la ristrutturazione dell'ospedale di Penne. Daremo risposte al territorio vastese in attesa da anni dice il presidente D'Alfonso che chiarisce anche tempi e modalità per l'iter di costruzione del nuovo ospedale. Quando si parla dell'ospedale nuovo di Vasto non bisogna pensare ad una infrastruttura sanitaria che si esaurisca dentro le mura della città perché parliamo di una naturalissima città distretto città comprensorio che tra l'altro ci facilita i rapporti con quell'altra parte di Abruzzo che io mi permetto di dire sta a ridosso di Vasto e di San Salvo che è il Molise noi stiamo portando avanti un grande progetto di cooperazione rafforzata che parte dalla storia degli Abruzzi rispetta e onora la grande dignità e ruolo strategico della regione Molise e l'infrastruttura sanitaria dell'ospedale nuovo di Vasto è strategica. 84 milioni di euro partirà da domani per l'idoneità del regime del suolo dal punto di vista urbanistico e poi mettiamo in campo, come prevede la legge, un project financing dedicato. Noi avremo un'offerta progettuale da un operatore economico e avremo un cantiere frutto di una gara d'appalto internazionale. Il mandato di Olivieri prevede anche la coniugazione della progettazione edilizia con le esigenze della progettazione sanitaria. Olivieri si è detto pronto a raccogliere la sfida a queste le sue linee di programma per i prossimi mesi. Diceva bene il Presidente, siamo sul confine del Molise e noi contiamo anche sul contributo circa le utenze del Molise ed è importantissimo. Ecco perché ho voluto fortemente dal Presidente che fosse la priorità, che fosse il primo dei cinque ospedali da cantierare. Naturalmente c'è questa possibilità adesso dell'arretramento che va a servire, va a dare questo importante servizio perché se un problema c'è in un territorio, in un area, in uno spazio dove va realizzato l'ospedale, già acquistato dall'azienda sanitaria sono 12 o 13 ettari, circa 12 ettari e mezzo. Se un problema c'è è quello infrastrutturale e noi dobbiamo dar mano da domani alle infrastrutture per poter poi entrare con le ruspe. Quella di ieri è stata una domenica impegnativa per l'elisoccorso del 118 e per il soccorso alpino. Due incidenti, uno su strada e uno in montagna hanno impegnato gli equipaggi. Oggi a Campo Imperatore, tragedia fortunatamente solo sfiorata per un motociclista romano, ora ricoverato nel nosocomio del capoluogo. Domenica di lavoro sul Gran Sasso per il 118 e per il soccorso alpino dell'Aquila. Nel primo caso una tragedia fortunatamente soltanto sfiorata grazie al casco e agli altri dispositivi di sicurezza per la moto che il motociclista romano di 22 anni indossava. Uno schianto pauroso sulla strada che da Fonte Cerreto porta a Campo Imperatore. Il giovane è stato recuperato dall'elisoccorso del 118 perché le sue condizioni sono apparse subito grave ai sanitari. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con prognosi riservata, fratture ad entrambi i polsi, escoriazioni e traumi multipli. Assieme ad altri motociclisti, il giovane romano stava percorrendo la strada tra Monte Cristo e la Fossa di Paganica in direzione Campo Imperatore. Dopo una curva, per cause ancora da accertare, la moto è impattato contro una vettura guidata da una donna rimasta illesa che procedeva nel senso opposto. Il motociclista è sbalzato dalla moto ed è rotolato per diversi metri sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari e dei delisoccorso per il trasporto in ospedale. Sempre ieri pomeriggio, inoltre, il soccorso alpino dell'Aquila è stato impegnato nel recupero di un alpinista infortunato sul paretone del Gran Sasso assieme ad un compagno di Cordata. Sono stati loro stessi col cellulare ad allertare i soccorsi. La causa dell'incidente, il distacco di un masso che ha colpito il piede di uno dei due escursionisti che si trovavano a 2850 metri di altezza. Recuperati con il verricello dal soccorso alpino sono stati portati in elicottero a Prati di Tivo e trasportati poi in ospedale. L'uomo ferito è un 33enne di Loreto Aprutino, il suo compagno illeso è di penne. L'emergenza siccita si fa sentire anche in Abruzzo. Forti criticità si registrano nel Terramano, in particolare lungo la costa, con situazioni a macchia di leopardo. Diversi sindaci, non solo del Terramano, hanno predisposto ordinanze di divieto di uso dell'acqua potabile per consumi che non siano strettamente potabili. Secondo la Colidiretti, che stima danni per 100 milioni di euro, la produzione ortofrutticola è a rischio, soprattutto nella Marsica. La necessità di acqua è molto forte perché incide sulle quantità prodotte di insalate, spinaci, radicchio, indivia, finocchi e le prime carote seminate a febbraio. È necessario passare dalla gestione dell'emergenza ad una cultura della prevenzione, dice Colidiretti Abruzzo. Il caldo eccezionale, unito agli ultimi nubi fragili sulla zona costiera, prosegue l'associazione, stanno mettendo dura prova la resistenza delle coltivazioni, mentre si fa sempre più difficile ricorrere alla irrigazione di soccorso per salvare gli ortaggi, ma anche il fieno per l'alimentazione degli animali. Intanto, pochi giorni fa, la notizia è che 50 milioni di euro sono stati finanziati attraverso il Masterplan per costruire la nuova rete irrigua del Fucino e contrastare così la siccità, anche se non nell'immediato. E ora torniamo a occuparci della vicenda dell'abbattimento di Palazzo Sirena a Francavilla al mare. Il comune va avanti per la sua strada, è chiaro. Il sindaco Antonio Luciani, anche dopo che l'architetto Massimiliano Fucsas e il critico Vittorio Sgarbi hanno firmato la petizione del comitato che si oppone all'abbattimento della struttura. Vediamo. Sindaco Luciani, la questione Palazzo Sirena resta sempre attuale. Ora anche delle firme come l'architetto Fucsas e anche il professor Sgarbi si sono un po' allineati alle richieste del comitato. firmando la petizione per il non abbattimento. Lei cosa replica? Io replico che non dubito del fatto che siano due grandi personaggi ma non mi è sembrato di riceverli. O mi è sfuggita questa cosa ma non sono mai stato interpellato da questi personaggi, non li ho mai visti vedere fisicamente il Palazzo Sirena quindi la cosa mi fa sorridere. Si va avanti quindi con l'idere per l'abbattimento del palazzo? Noi non ci siamo fermati neanche un secondo, non è la nostra abitudine perdere tempo con le parole ma fare i fatti e quindi l'iter va avanti, il Palazzo Sirena, la piazza Sirena verrà ristrutturata come abbiamo già ampiamente detto alla città. Questa cosa ovviamente non la potrò fare nel mese di agosto per ovvie ragioni perché oggi è splendidamente frequentata da tanti turisti però a settembre appena si potrà insomma si avvieranno i lavori che tra l'altro sono stati già giudicati e c'è già una ditta che ha avuto la giudicazione definitiva dei lavori quindi tutto pronto. Dicono che questo abbattimento è del tutto inutile, le cosa replica? Dico che chi dice questa cosa non conosce appunto minimamente come stanno i fatti non hanno studiato questa situazione per sei anni come ho fatto io penso di aver dato già ampia dimostrazione di approfondire tutti gli argomenti sono pronto ancora al dialogo e all'approfondimento chiunque vuole venire a trovarmi il tavolo è qui, le carte sono qui, vuole parlare con me lo può fare quindi darò tutte le risposte che cercano. Le opportunità di cambio di destinazione d'uso in abitativo messe a disposizione dalla nuova legge regionale voluta dall'assessore Donato Di Matteo sono state al centro di un convegno questa mattina a Pescara a cui hanno preso parte anche rappresentanti dei comuni e ordini professionali. Vediamo. Con la legge regionale 396 del 2017 che programma e dispone il recupero del patrimonio edilizio esistente ci sarà la possibilità di modificare la destinazione d'uso in abitativo di locali destinati a ripostiglio, dispensa o superficie accessoria una legge proposta dall'assessore regionale Donato Di Matteo che vuole andare incontro alle esigenze di tante famiglie che hanno bisogno di creare spazio all'interno delle proprie abitazioni per sistemare figli o magari genitori anziani della legge e della sua ricezione e applicazione che sarà in capo ai comuni se ne è discusso a Pescara in un convegno a cui hanno partecipato i rappresentanti della regione, delle organizzazioni sindacali, dei comuni e degli ordini professionali la legge, dice l'assessore Di Matteo, punta a contenere il consumo del suolo e pone particolare attenzione alle zone vincolate questa legge crea la possibilità alle grandi esigenze che ci sono di tante famiglie in un momento di difficoltà economiche di poter trasformare le strutture a piano terra e semi interrate in unità abitative questo concede la possibilità alle famiglie di poter creare opportunità di case di abitazione ai figli che si vogliono sposare senza fare nuovo edificato senza dover investire tanti soldi la norma deve essere cipita entro 90 giorni dai comuni i comuni provvederanno a trovare, a individuare quelle aree dove questo tipo di provvedimento può essere realizzato certamente nelle aree ad alto vincolo tipo le aree R4 non può essere concepito qualcosa di questo tipo l'amministrazione comunale di Pescara riesce a superare i limiti imposti dal decreto Madia e stabilizza con contratti a tempo indeterminato 48 dipendenti della società partecipata attiva che può così aprire una nuova fase della sua gestione sono novità che riguardano naturalmente i lavoratori di attiva che potranno avere la stabilizzazione per ora ne sono 48 quindi 45 già previsti nel piano e 3 che andranno a sostituire delle persone che nel frattempo sono andate in pensione è una novità importante perché è una novità che fa seguito a quel famoso concorso in cui riconoscevamo le professionalità di quanti già precedentemente avevano lavorato in aziende simili a queste assunti nel frattempo con contratti a tempo determinato e adesso diventano contratti a tempo indeterminato questo è un fatto importante perché c'era stato un decreto di attuazione di un famoso decreto Madia che aveva bloccato questa possibilità per cui nel frattempo li avevamo presi a tempo determinato adesso li possiamo stabilizzare con un risparmio per quanto riguarda attiva di 90.000 euro all'anno di IRAP ma anche con un legame che si solidifica tra i lavoratori che trovano una stabilità di vita familiare e la società del Comune di Pescara Con le novità di oggi si apre una nuova fase per attiva? Beh sì, si apre una nuova fase perché chiudiamo o iniziamo a chiudere un percorso che si era aperto qualche tempo fa e che evidentemente lasciava diverse incognite lungo la strada adesso potremmo contare su un numero di lavoratori a tempo indeterminato all'interno della struttura che potranno essere assolutamente degli elementi su cui contare per il futuro quindi usciamo da una fase abbastanza travagliata di precarizzazione del lavoro inattiva e ci avviamo ad essere una società con il suo organico con i suoi dipendenti fissi su cui si può investire in termini di formazione di miglioramento del servizio e quant'altro e quindi è una fase sicuramente positiva che si apre Luglio intenso all'Ecolan con l'avvio del servizio di igiene urbana nei comuni di Torino di Sangro, Frisa, Mozza, Grogna e Santa Maria in Baro le comunità servite dalla società partecipata da 53 comuni del comprensorio salgono da 14 a 18 per un'utenza complessiva di circa 100.000 residenti Frisa, Mozza, Grogna, Santa Maria in Baro e Torino di Sangro dal mese di luglio usufruiscono del servizio di igiene urbana fornito da Ecolan salgono quindi da 14 a 18 i comuni serviti dalla SPA dei 53 comuni del comprensorio Frentano presieduta dal geologo Massimo Ragneri l'utenza servita ad oggi raccoglie un bacino di 100.000 abitanti Ecolan ha una missione, un obiettivo è quello di poter gestire i servizi di igiene urbana per tutti e 53 comuni soci chiaramente con i nuovi comuni possiamo continuare ad ottimizzare i servizi perché chiaramente più comuni entrano, più i comuni sono contigui l'uno all'altro riusciamo ad abbattere ancora di più i costi e quindi in prospettiva ad contenere i costi della Tari per i cittadini Lo staff tecnico della società spiega nelle assemblee pubbliche e le buone pratiche della raccolta differenziata mettendosi a disposizione dei cittadini per individuare le soluzioni più adeguate alle singole esigenze Tutti i 53 comuni come centrali di committenza ci hanno affidato anche il servizio di gestione degli smaltimenti per intenderci del residuo secco e dell'organico quindi noi per conto dei comuni abbiamo fatto la gara per gestire sia l'indifferenziato che l'organico e quindi praticamente gestiamo quasi 150-160 mila abitanti 22 mila euro dall'Aquila per la vita al laboratorio di dermatologia oncologica del nosocomio aquilano serviranno a finanziare una borsa di studio, vediamo 22 mila euro finanziate interamente dall'Aquila per la vita a sostegno di un ambulatorio dermatologico per la gestione degli eventi avversi a terapie antineoplastiche L'Aquila per la vita che è sempre stata sul territorio, continua a esserlo partecipa a questo progetto finanziandolo interamente per oltre 22 mila euro in collaborazione con l'Università dell'Aquila in particolare con il reparto di dermatologia oncologica generale diretta dalla professoressa Maria Concetta Farnioli con la quale c'è un'intesa totale sul progetto Il progetto presentato all'Aquila per la vita dalla professoressa Maria Concetta Farnioli direttore dell'Unità di Dermatologia Generale Oncologia dell'Ospedale dell'Aquila sposa perfettamente la mission della Olus Aquilana Data la numerosità dei farmaci oncologici e l'estrema variabilità dell'impatto sulla pelle che rende difficile la prescrizione di una terapia da parte di uno specialista non dermatologo si è ritenuto di creare un ambulatorio dermatologico per la gestione degli eventi avversi cutanei come già istituito in numerosi centri dermatologici in Italia una novità assoluta per l'Aquila Le reazioni avverse dermatologiche da parte dei farmaci antineoplastici sia quelli di vecchia generazione che quelli di nuova generazione sono molto frequenti e soprattutto sono molto importanti al di là del fatto puramente funzionale anche per il fatto psicologico trattandosi comunque di lesioni visibili per il paziente quindi che impattano moltissimo la sua qualità di vita per cui una gestione corretta di questi eventi avversi che rappresentano oggi un'ampio e nuova branca della dermatologia sicuramente è importante Il finanziamento dell'Aquila per la vita consentirà alla giovane e talentuosa dottoressa Ambra Antonini di seguire in prima persona l'iniziativa L'obiettivo del progetto è quello di mettere al centro la persona e non la malattia come questa Ollus che ormai fa parte del DNA dell'Aquila fa ormai da tempo con le cure domiciliari ai malati oncologici umanizzare il paziente un obiettivo decisamente riuscito da parte dell'Aquila per la vita a breve tra l'altro verranno portati avanti anche altri due progetti che verranno presentati più in là Il laboratorio della professoressa Fagnoli è molto conosciuto molto noto e molto apprezzato L'intervento dell'Aquila per la vita per noi è importante perché darà un apporto serio all'attività E ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara Roberto Insigne giocherà nel Parma uno degli obiettivi d'attacco del mercato bianco-azzurro sia a casa in giallo-blu alla corte dell'abruzzese Roberto D'Aversa ma il Delfino nei prossimi giorni dovrà sfoltire la rosa in vista della seconda parte del ritiro a Palena la seconda parte che si aprirà sabato prossimo il servizio di Jacopo Forcella Insigne e Pescara un matrimonio che evidentemente non si replicherà col fratello di Lorenzo perché Roberto Insigne sembra destinato ormai ad accasarsi al Parma Nei giorni scorsi anche il presidente bianco-azzurro Daniele Sebastiani aveva ammesso l'interesse per l'ex attaccante di Avelleno e l'Atena su cui però si è fiondata la società giallo-blu su indicazione del tecnico abruzzese Roberto D'Aversa Dunque un Insigne bis con la maglia bianca-azzurra non sembra essere più all'orizzonte ma il mercato del Delfino non finisce qui specie sul piano delle uscite considerata la necessità di Zeman di avere una rosa più ristretta in vista della seconda parte del ritiro Davide Vitturini è vicino al Carpi in prestito con diritto di riscatto mentre la Lega Pro dovrebbe essere la prossima destinazione degli attaccanti Polidori e Forte sul primo c'è il gradimento e anche qualcosa di più della Casertana visto che il Teramo, inizialmente interessato all'ex Arezzo ha già acquistato Cirofoggia ma i falchetti rosso-blu potrebbero fare anche un pensierino su Luca Forte il classe 94 vorrebbe rilanciarsi e in campagna potrebbe avere lo spazio giusto per farlo ancora in fase di stallo invece le situazioni legate al capitano Lady Annemusciai ma discorso simile può essere fatto anche per Coda, Stendardo, Brugman, Bruno e Nicastro per la questione portiere Fiorillo ha estimatori in Serie B Cesena e Salernitana e anche Palermo e sulla sponda bianca-azzurra sembra essere chiuso da Mirko Pigliacelli in pochi giorni dunque il Pescara potrebbe subire un profondo dimagrimento della Rosa per questo sono al lavoro i direttori sportivi per consegnare all'allenatore un organico che a Palena possa concludere nel migliore dei modi la preparazione intanto il giovane terzino Daniel Di Nicola 21 anni va in prestito in terza serie alla Virtus Francavilla e scendiamo in Lega Pro in Casateramo il mercato in entrata prevede l'arrivo di un altro centrocampista e di un esterno d'attacco ma è ancora da monitorare la questione che riguarda la permanenza di Mirko Petrella intanto continuano i rumors su un possibile passaggio di Marco Sansovini al Pineto domani la sfida col Pescara ma già da oggi in Casateramo si ricomincia a lavorare sul fronte uscite la notizia del probabile approdo di Marco Sansovini al Pineto è una pista calda ma che dovrà trovare una giusta dimensione dal punto di vista contrattuale ed economico il centravanti infatti è deciso o a rimanere in Abruzzo oppure a trasferirsi sì ma al nord, viste le origini lombarde della moglie, se la seconda opzione è complicata visto che ad oggi mancano offerte concrete da squadre in quelle zone la permanenza nella regione che lo ha visto per anni protagonista sarebbe lo scenario in questo momento più probabile è evidente che in caso di cambio di casacca Sansovini però sarebbe costretto a scendere nelle categorie di dilettanti ed allora ecco com'è nata l'idea Pineto un'idea comunque allo stato attuale ancora molto complicata il sodalizio del presidente Silvio Brocco sarebbe felice di poter abbracciare un attaccante di quella statura nello stesso avviso anche a Mauro e il DS Gianmarino che però per il momento tengono i piedi ben saldi a terra considerando che la trattativa comunque non sarà semplice e la destinazione dovrà incontrare il gradimento del giocatore intanto il diavolo medita su quelle che saranno le prossime mosse partendo dal destino degli esclusi dal ritiro che parole del direttore sportivo Giorgio Repetto non hanno alcuna possibilità di essere ripescati ma se non arrivano segnali da altre formazioni tra qualche giorno il Teramo dovrà iniziare con le rescissioni contrattuali allora e solo allora ci sarà spazio per nuovi arrivi nelle intenzioni della dirigenza dovrebbero essere due come un centrocampista e un esterno d'attacco tutto questo considerando la permanenza di Pestrella ma se invece il Pratolano dovesse partire ed è una possibilità non così remota ecco che gli innesti potrebbero diventare tre intanto la società Biancorosse ha la ricerca di una squadra con la quale disputare l'amichevole inizialmente programmata col Foggia sabato prossimo ma annullata dopo il lancio di fumogeni in campo dei sostenitori pugliesi nell'amichevole contro il Castello 2000 ed ora in serie D il Francavilla Calcio ha una nuova proprietà l'imprenditore Gilberto Candeloro è il nuovo presidente al suo fianco in questa esperienza anche l'ex socio del Delfino Pescara Giacomo Ortolano Candeloro raccoglie l'eredità di Fabio De Vincentis cercherà di superare gli ostacoli di una partenza in ritardo in una stagione che si annuncia molto impegnativa visto che per il ripescaggio in serie D ci siamo e manca soltanto l'ufficialità oggi la presentazione del nuovo presidente del Francavilla ascoltiamo le sue prime parole abbiamo dovuto fare le cose in fretta perché era quasi un ultimo minuto oggi non ci ha aiutato neanche una banca che aveva molti assenti e molti problemi però siamo qui, sono contento di essere qui ringrazio il sindaco prima di tutto perché ha dimostrato trasparenza e visione anche ringrazio tutti quelli che hanno portato Francavilla fin qua è stata un'impresa in certi anni e spero che questo sia l'inizio di un percorso etico come si affronta il calcio in una città che non è grandissima ma che ha delle ambizioni Il calcio era un po' nel suo destino visto che si parla anche di un interessamento verso il Lanciano dei Maio C'è stato più di un interessamento e credo che il Lanciano abbia perso un'occasione perché con poco potremmo essere in via ancora però non si deve rimpiangere il passato si deve costruire il futuro quindi quel futuro che non siamo stati capaci di costruire a Lanciano vediamo di costruirlo qua I programmi quali saranno? Credo che noi si debba dividere almeno tre periodi il primo che è quello che ci porta dal niente che abbiamo oggi perché certo oggi rileviamo una società che è arrivata corta a questo puntamento siamo in ritardo sulla preparazione su tutto e quindi dobbiamo attraversare un periodo che ci porta qui a dicembre cercando di capire quello che abbiamo per impostare il futuro il secondo periodo è da gennaio alla fine del campionato e che capiremo di più e la vera prova poi sull'anno prossimo se riusciamo a far bene quest'anno di transizione Figure dirigenziali, direttore sportivo si è parlato anche di Iervese come allenatore lei può confermare? Lo posso confermare qui abbiamo la fortuna che una società di calcio come tutte le società ha bisogno di struttura e di organizzazione, di governance e questo credo che possiamo farlo con le altre aziende con la fortuna di amministrare e poi ha bisogno di capire bene il settore in questo caso lo sport e qui abbiamo delle persone che hanno fatto calcio in maniera giusta anche in maniera positiva poi ci vuole sempre quel terzo parametro che si chiama fattore C che speriamo di avere anche qui Era questo l'ultimo servizio del TG6 il nostro notiziario torna più tardi con la terza edizione alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per l'attenzione e buona serata